La maggioranza di centro-sinistra La maggioranza di centro-sinistra La maggioranza di centro-sinistra permette al Comune di avere quella leva sociale importante in questi casi. Dobbiamo anche capire chi comanda in Comune, se i tecnici o i politici, perché la politica, in particolar modo la sinistra, dice a parole di essere vicine ai cittadini, alle persone in difficoltà. di fatto svende al privato uno dei servizi più importanti del comune che è quello della riscossione dei tributi. Io rimango esterrefatto dalle parole di in comune che si chiamava Sinistra Unita nel 2017 dove diceva addirittura di togliere il privato e oggi giustifica anche in questo caso l'ingresso del privato. Dopo aver svenduto la sanità pubblica, dopo aver cementificato mezzafano e dare l'avvio a nuovi centri commerciali oggi anche sui tributi in comune Sinistra Unita, non so più come chiamarli, fanno un'inversione EU e quindi tradiscono i loro elettori. Di sinistra non c'è rimasto più niente.